È molto difficile, non ce la facciamo a tenere aperto l'asporto. Sono aperta dalle otto e adesso è l'una e avrò fatto dieci caffè, se vogliamo dirla proprio tutta. Abbastanza critica la situazione, soprattutto adesso che ci mettono sabato e domenica in zona rossa, quindi lavorare dal lunedì al venerdì l'asporto non è il massimo. Chi ha la fortuna di avere una location come la mia o come tanti altri che in questo momento hanno dei clienti fidelizzati, in qualche modo riescono ancora a salvare il salvabile. Però io penso che adesso la corda si sia rotta, nel senso che non si può pensare di andare avanti così per molto. Al terzo ritorno all'asporto i bar, i locali vicentini sono sempre più in sofferenza, diversi quelli che hanno deciso di rimanere chiusi e il rischio che molti non riapriranno è alto. Aspettando il decreto a sostegno del governo ci si chiede se sia ancora tempo di parlare di ristori o di risarcimenti. Che sia risarcimento o rimborsi non cambia la situazione, diciamo, se non arrivano comunque. C'è bisogno di lasciare lavorare quelli che lavorano bene, che hanno la possibilità di lavorare in sicurezza ed eventualmente aiutare quelli che non hanno la possibilità, non aiutare quelli che invece cavalcano l'onda. I ristori vuol dire legittimare una situazione, un'emergenza e poi in questo modo si continua anche ad andare avanti con la fisarmonica. No, io non voglio niente, voglio che mi facciano lavorare. Per certi di noi c'è bisogno anche del ristoro, forse più risarcimento che ristoro. Prendiamo la montagna, là darei un bel risarcimento perché l'hanno fatta proprio grossa. Ecco, perciò lì sì, risarcimento. Poi per noi fateci lavorare che noi ci ristoriamo da soli.